Lo sapevate che c'è un robot che parla la nostra lingua? Sono Cybertalk. Lo programmo e lui dice tutto quello che voglio. Hai finito i compiti? Non ancora, non ancora. Cybertalk mi insegna a usare la tecnologia. Ti aiuto io a ripetere scienze. Scienze? E da me era la simpatia. Scienza? Il gioco è solo clementoni.